Sono arrivate le nuove CPU Intel di tredicesima generazione e sono andato a confrontarle con i nuovi Ryzen 7000 e ragazzi finalmente c'è competizione ho testato il 13900K e il 13600K contro le nuove CPU Ryzen 7000 ovviamente anche contro le vecchie generazioni 5000 e Intel di dodicesima generazione in praticamente tutti i vari test il nuovo i9 13900K riesce a stare davanti o quasi al 7950X sono rimasto davvero davvero stupito la cosa che mi ha stupito di più però è stato l'i5 meno consumi, temperature più basse, prestazioni della madonna e per il gaming è una bomba e poi DDR4 e DDR5 non cambia praticamente niente per quanto riguarda le prestazioni quindi se volete fare una configurazione economica 13600K DDR4 e una scheda madre della generazione precedente andate sul sicuro se volete avere maggiori informazioni guardate il video completo